Raimund Gorcicza Raimund Gorcicza Przypomnijmy, że klasa B to inaczej ósma liga, a wiadomo, że na tym poziomie grają najwybitniejsi zawodnicy, którzy strzelają najpiękniejsze gole. Klaskaiki Chodź! Chodź! Dobrze! Wiktor z 1 cleared結果 2 Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . 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 Zbuk. 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 Ull'iscia buona! Ull'iscia buona! Ull'iscia buona! Sì, sì! Sì! Che cosa è il tempo! Che cosa è! Perché la musica non è scolone! Perché non è scolone! Per il scolone bisognava andare a do него! La scolte si è scolone! Perché la scolte si! Ma scolte! Una scolte! E' come si scolte! Si chi è scolte? E! Ma che cosa tu faccio? e vediamo torno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.